In questo video, vi mostrerò come verificare i contatti bloccati su iPhone. Con il nuovo aggiornamento iOS 18, sono state apportate alcune modifiche all'app Impostazioni. Per visualizzare l'elenco completo dei contatti bloccati, procedere come segue. Aprire l'app Impostazioni sull'iPhone e scorrere verso il basso fino alla voce App. Selezionarla e, all'interno dell'elenco, individuare la voce Telefono, sezione T. Una volta selezionata, scorrere verso il basso fino a trovare Contatti bloccati. Selezionando questa voce, verrà visualizzato l'elenco completo dei contatti bloccati. Per sbloccare un contatto, scorrere verso sinistra sulla voce corrispondente e selezionare Sblocca. È un procedimento molto semplice.